Ha ragione lui Perché ci sono dei piedi grassi e cicciottelli Aiuto Stupro contro WWE perché non sono la stessa cosa Qui che casca l'asino Ma cosa no? Come no? Com'è possibile? Che si fa? Si higher e lower a sto game? E allora ragazzi questo è me e bentornati con questa nuovissima episodio della serie di The Higher and Lower Game Un giochino da browser che mette a durabilità la tua ignoranza Potrebbero fare una scala di ignoranza da 1 a Donald Trump L'ultima volta in compagnia di Surry il video è andato veramente molto bene Oltre 500.000 visualizzazioni più di 50.000 mi piace Grazie mille per il supporto oggi siamo tornati da soli per cercare di battere quel dannatissimo record Che ho fatto insieme alla marina di 29 punti E se arriviamo a 50.000 mi piace anche a questo video Lo faccio insieme a Sascha E vedremo se Saschevano sarà più potente di Stefalvatore O qualcosa del genere insomma Bando alle ciance Andiamo Il Qatar contro Kurt Angle Lui quando ero piccolo era tipo famosissimo Però adesso secondo me è un po' meno ricercato ecco di quei tempi Infatti è andata così Ma forse è un pochino più la Colombia di lui Beh che ne dite? Mentre sappiamo bene che T-Mobile è imbattibile in questo gioco C'ha centinaia e migliaia di ricerche E sicuramente anche più dello schiavismo di Django Unchained La D è muta e Django Unchained Beh che dire La regina Vittoria o Django? Mi prego Django si è più famoso di lei Andiamo Che poi non è più famoso è più ricercato Sì ultimamente più o meno Blade Runner No dai metto meno Ma cosa? Tutte le volte dicevo che chi fa da sé fa per tre Dimostriamolo Stefano Dimostriamolo Il Kenya o la droga Il Kenya dai Per piacere Il Kenya o Rihanna Beh presumo Rihanna a sto punto Meno male Che poi era la droga o Rihanna ho sbagliato Il Bayer Monaco Con il grandissimo Ribery di spalle No non ce ne può avere così tante Infatti mi sembrava strano Ne avrà di più Diana Ross che presumo sia Non so un'attrice o una cantante No ne ha di più il Bayer Monaco Ma meno male Popaie Devo cercare di non farmi trascinare dalla malinconia Dell'essere un piccolo bambino ancora dentro Perché Popaie andava di moda quando ero molto piccolo Non me ne ha di meno di Diana Ross Ma cosa? Ma non è possibile Ha ragione lui Io mi fido del karma La gente cerca le cose sul karma Per capire come comportarsi Per avere indietro dei benesseri E poi ci sono i Pampers Pampers o Pampers Non lo so Penso meno Dai Oddio Pari Qualsiasi cosa avrei messo Quindi sarebbe stata la scelta migliore Bruno Mars ne avrà sicuramente di più Anche perché sono dei pannolini Contro un cantante decisamente famoso Boing 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 Lower 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 Sì Arriverga sta Diana Ross Mi sembrava di più Non mi c'era Pari Per fortuna Virgin Atlantic Ma per me è meno Perché non ho idea di che cosa sia È un aereo È una compagnia Signor Cavallo non deve essere felice Bastardi senza gloria Dai 300 Il disturbo dell'attenzione O Triple H Il disturbo Spero Bene Abraham Lincoln Vorrei stupirmi O no Chi lo sei Sì Uff Jean Cruyff Non so chi tu sei Quindi ti voto meglio Ma ho rischiato parecchio Mi granchi Ma chi è che si incula i granchi Ma è molto meglio Mentre la Cina Un po' di gente la cercherà No? Anche solo gli abitanti stessi Della Cina Se si autocercano È un Cirque Inception E scoppia tutto Nel frattempo Cristian Dora Aveva meno ricerche Ma ne avrà anche Meno di Barcellona C'è un pronto A metterci Amato su il foo Con la sagrada famiglia Devo pensare Perché l'altra volta Microsoft aveva tipo 5 milioni E Barcellona Sono tanti nove Beni così La memoria Tutto qua dentro Tutto dentro la mia testa Questa ce la portiamo a casa Supereremo il record Una volta per tutte Ve lo garantisco Murphy Spreisly È famoso comunque È una persona Molto conosciuta Meno male Che lo cercano ancora Però la Germania Secondo me Scena meno di ricerche PAM Cartoni o Germania Beh cartoni Sì Sì così Però male Paul McCartney Mi dispiace Ma sei meno ricercato Di cartoni animati E poi c'è Kim Kardashian Che è sulla bocca di tutti E anche sul culo Di tanti altri E di conseguenza Avrà più ricerche dell'Algeria E questo è un punto garantito E noi siamo felici Quando ci danno queste cose Che cos'è questo? Perché ci sono dei piedi Grazie a Cicciottelli Cos'è Cancels? Beh non c'è che dire Di ottimo aiuto il traduttore Cancels Uguale Cancels Grazie Che bella differenza Detto sinceramente Se non sappiamo manco cos'è Come fa ad avere più ricerche dell'Algeria? Ecco Devo pensarci anche un pochino primo Annucca Ne avrà un po' di più Ma neanche tante The Usual Suspects Chi sono questi? Io ragazzi Non vorrei deludervi Ma non lo conosco sto film Spero che abbia più ricerche E basta Meno male le persone Lo cercano in streaming Louis Vuitton Fagli vedere che pasta sei fatto 4 milioncini Ce li mettiamo in saccoccia Tesla Anche se hai fatto delle invenzioni Che hanno salvato il mondo Non importa a nessuno Perché George Foreman Non so chi sia Sarà comunque Meno famoso Meno Sono un pirla Aia mi sono fatto male Porca miseria Aiaiaiaiaiaiai Ho pure picchiato la testa Sei nel top del 1% Dei giocatori del mondo Un applauso 21 abbiamo fatto Ma a noi non basta Allora facciamo vincere Sta Toyota Intanto si prende qualche miliociolo Toyota we're leaping out us Ah cocaina No Io la bevo la Coca Cola Non mi piace Minimum wage Spero meno Ho sbagliato Angelina Jolie O la Roma Eh Angelina Jolie Se la lasciava da poco Quindi secondo me vince A prescindere La Roma O il sostizio d'estate Beh penso comunque la Roma Sì Era il compleanno di Francesco Totti Tra l'altro in questi giorni Teoria di cospirazione Ma vai Un pochino ce l'avranno Sennò qualcuno non ci cerca Non sai Prosecco Ops Pensavo molto di più Praga Ne andiamo sempre a salire Piano piano Il cambio del clima Ma Anche secondo me Infatti non è tanto ricercata C'è Anistica Way 80.000 ordini al mese Sì lo sappiamo Il loro business La febbre Eh la febbre Comunque le persone Cercano sempre i sintomi Su Google E che schifo è sta roba La febbre O il cuore La febbre Mero male Levate sto coso di mezzo Dai Beckham Spolvere Per piacere portatelo via Meno male Il violino No il violino non c'è Avrà tante ricerche Oh mio dio Il presidente Jeff Kaye Ah ho il violino Tante persone cercano L'attentato di John Kennedy Quindi io punto su questo aspetto E fortunatamente Non avrebbe avuto senso La mia scelta E vai Aiutami Google Aiutami Postering Favorire Promozione Promozione Per me no Nel senso Promozione di che The Sabbath Cos'è tipo una cerimonia religiosa Bella domanda Per me è meno anche questo Oddio 3000 Il prossimo sarà sicuramente di più E poi se mi metti Netflix 68 milioni Eccoci Amazon o Netflix Aiuto Amazon o Netflix Incrocio le dita E spero Netflix Madonna mia Comunque sfida fra titani oggi Piastrellista Levati dai tre passi Toy Story Per forza 3 800 mila Car insurance Ai 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 Erano tanti se non sbaglio No 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 Perdere così per l'assicurazione di una macchina Non è giusto Che pizzo Candy Crush Saga Vabbè lo sappiamo Che domina il mercato Poi abbiamo il karma Ma il karma è sempre meno Il karma mi vorrà bene Visto che sto facendo questo video Da solo Spongebob Meno del karma Spongebob Fai cacare Che poi alcuni vecchi vecchi Non me li ricordo Ma rape non è stupro Stupro contro WWE Perché non sono la stessa cosa Comunque mettiamo WWE Penso che comunque si è ricercava Viva Las Vegas Oh yes Las Vegas Pagan Giù Meno Praga abbiamo visto Era tipo 600 mila E qualcosa Bene Edward Snowden Chi è questo Io non lo so Io non lo conosco Però è su Wired Vabbè dai Proviamo Proviamo E infatti abbiamo sbagliato Meno Quando me non ce la faremo mai A battere il record È tipo impossibile Perché Finché era roba del genere Come fai Oddio Oddio lotta Fra titani Per fortuna Questo regnato Ci avrebbe avuto Disordini alimentari È qui che sbagli È qui che casca l'asino Assicurazione della casa Un po' di persone Saranno interessate Cosa può succedere Questo c'è Il granaio Nel flarno New York City 2 milioni Siete infami New York o Giappone Dai sono di parte Metto Giappone E vinco E vinco Induismo Ce ne avrà sicuramente meno Le religioni non è che vadano tanto bene Slatan Ibrahimovic Invece lui Sì Slatan comanda tutto Più potente della terra Slatan Non è vero Io pensavo Non devi giocare a sensazione di cuore Stai prima a sensazione di testa Chiaro Donna Summer Un pochino di più Brava Quaio Stadium Dagliene un pochino di più E invece Non se lo inculesso Lady Gaga o le Olimpiadi Lady Gaga con tutto il rispetto Sono state 10 giorni fa Sono state Ma perché A proposito delle Olimpiadi Infatti Guarda Ben Affleck On Mental Health Bene Vinci caro Ben Vinci Qui vi Code Computer Cos'è Cos'è 88 Confirma I Simpsons o Paul McCartney Guarda A fiducia Sbaglio sempre A fiducia Basta Se non conosco una cosa Metto meno Sudafrica più del Seneca Molto bene HTML Più di Sudafrica Immagino Skype Skype L'Amador Sante ricerche c'è a questo In tutto il mondo Da come fanno a contattarsi Altrimenti L'Areno Per quanto possa averne tante Ne avrà meno di Skype Grazie a Dio Malattie sessualmente trasmissibili A nessuno interessa Nessuno Alcol o piscio Bella domanda Alcolisti anonimi Ma se sono anonimi Chi è che dice 4 milioni Ok Tanti anonimi non sono eh Se c'è tutto sto traffico Schizofrenia o Shutter Island Spero il film Ma cosa no Come no Com'è possibile Non può avervi di più la schizofrenia E che caspita Michael Jordan 823 Mila punti Transgender What the fuck Meno 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 anche questo Sagittariani Tutti vogliono diventare Queste cose strambe Quindi che facciano pure Stupro aveva mezzo milione Se non erro Eh sì perché Tutte le persone Evidentemente sono interessate Il taxi Vuoi che non cerchino il taxi Online poker No lower Lower Sì Sì così Fanculo JFK Bam Ce la vinciamo Arriviamo almeno a 20 Anche questo ultimo giro Venus Venus JFK Céline Dion Meno di Robert De Niro Di più Di più Il Boeing Non mi ricordo Quante ne aveva Pari Per fortuna Quando è pari Sono sempre contento Hotel Rwanda È un film Ma c'è poche ricerche Emeroi Emorroidi No Meno male Una cosa c'entra Il dentifricio Con le norme Di nascite Ci sono un botto Di nascite John Cena Paparapà E vince lui Star Island Ma chi sa in c***o L'isola di Pasqua Eddie Perry Baby Fireworks Mi dispiace Anche se sei carino E puccioloso Ne hai meno Ma ne hai più dell'induismo Sono pronto a No Volevo mettere Vaffanculo Questo gioco Gioca sulla tua pazienza Non solo sulla tua ignoranza Siamo già a otto Non mi pare vero Badminton È un gioco Bene Spero che la gente Ci giochi L'aurora Ma ma va Figurati se Cari amici Per oggi Il record È stato 21 Mi piacerebbe Continuare Perché sono curioso Di capire Se sono io che sbaglio Voglio provare Non puoi tradirmi Non mi traderebbe L'ho tradito io Ho messo meno Mi merito di aver perso Questo è bisogno di Ero perché Termina Qua Spare Si è piaciuto Questo è stato Spolliciato E commentato E con Sgagagnolo Mi piacerebbe Un prossimo video Mi auguro In compagnia di Sascha Qua saprei tutto Non raggiungeremo mai Trenta Vai Via la musica Con l'altro finale Adesso Non parte Ancora qua siete